Falsa documentazione per ottenere veri permessi di soggiorno, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'accusa costata l'arresto a quattro persone. Altre quattro sono indagate. I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno condotto in carcere nell'ambito dell'operazione Illegal Stay il ragioniere agrigentino Nicolò Massimo Vancheri, 55 anni, e i senegalesi residenti ad agrigento Tierno Mutaga Fal, 44 anni, e Papapapindiaie, 67 anni. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'imprenditore Salvatore Randisi, 35 anni. Eseguite diverse perquisizioni presso abitazione e studi di consulenza e acquisita documentazione ritenuta utile alla prosecuzione delle indagini. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP di Palermo su richiesta della procura del capoluogo siciliano. I quattro avrebbero favorito, secondo l'accusa, la permanenza illegale sul territorio nazionale di richiedenti il permesso di soggiorno, fornendo a questi documenti contabili e fiscali falsi, predisponendo anche contratti di locazione o dichiarazioni di ospitalità non rispondenti alla reale situazione alloggiativa dello straniero. Il tutto allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno, quale lavoratore autonomo. Il ragioniere Vancheri, titolare di uno studio professionale di consulenza contabile e fiscale, responsabile di alcuni patronati di Agrigento, sarebbe stato il capo e promotore della presunta associazione a delinquere. Avrebbe predisposto le dichiarazioni fiscali e i bilanci d'esercizio delle ditte individuali degli stranieri richiedenti permesso di soggiorno con dati non veritieri, impattendo loro direttive e indicazioni sulle modalità di compilazione delle ricevute degli scontrini fiscali e delle fatture d'acquisto, al fine di farli coincidere con i dati relativi ai costi d'acquisto, ai ricavi di vendita riportati nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali falsi. Sempre il ragioniere avrebbe indicato ai cittadini extracomunitari, nominativi dei complici disponibili a rilasciare loro fatture false, per operazioni inesistenti. Durante le indagini sono state esaminate e ritenute sospette 36 istanze di permesso di soggiorno corredate dalla documentazione contabile asseverata da Mancheri, per sette delle quali il GIP ha valutato sussistente un grave quadro indiziario.